Musica Bentornati amici miei qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mods su Dragon Ball Xenoverse 2 Allora, avete mai pensato di poter utilizzare uno dei fantasmini di Gotenks come personaggio a sé? Ebbene, con la mod di oggi potrete farlo Questa mod aggiunge ai vari personaggi di Dragon Ball Xenoverse 2 il fantasmino Gotenks Questo fantasmino ha schianto delle meteorite, ciambelle galattiche, super attacco kamikaze, fantasma, carica massima Quindi si, crea altri fantasmini come lui Poi ha le ultimate, raffiche di energia alla massima potenza e super attacco kamikaze e fantasma La ritirata di espressione come evasiva è il Super Saiyan per la trasformazione in Super Saiyan di terzo livello Allora ragazzi, prima di cominciare io vi invito a spollicciare più non posso per questo nuovo episodio Ed inoltre se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi Cominciamo subito provando l'allenamento Ci va bene anche un personaggio casuale in una zona casuale Bene ragazzi, allora Adesso vi faccio vedere la mod da vicino Questo è Ghost Gotenks Vediamo il Moonset che ovviamente deve essere quello di Gotenks Triangolo Bene, quadrato, triangolo Ora, le sferette Che ancora un po' sono più grandi di lui La presa Ora vediamo gli attacchi Abbiamo schianto del meteorite che ovviamente viene premuto fino a tre attacche di energia dovrebbe essere Vediamo Sì Ciambelle galattiche Poi abbiamo il super attacco kamikaze fantasma Con tanto di fantasmino Ovviamente È quello l'attacco La carica massima ragazzi Ora abbiamo la ritirata dispersione La raffica La raffica di energia alla massima potenza Prima di usare l'altra ultimate vi faccio vedere il super saiyan di terzo livello Ed infine il super attacco kamikaze fantasma Lo abbiamo eliminato Ok ragazzi questa è la mod di oggi Adesso andiamo a vederla in combattimento Ragazzi come nostro avversario Ho scelto Super Bu E ci troviamo nella stanza dello spirito del tempo Ovviamente E dove si sono incontrati Gotenks e Super Bu Attenzione Super Bu No Fat Bu Per la prima volta Ok Ok Vediamo di fargli un po' di danno ragazzi Un po' di danno L'abbiamo distrutto Ok facciamo ancora una battaglia In questa battaglia affronteremo invece Fat Bu E siamo nell'arcipelago ragazzi Trasformiamoci Visto che nell'altra battaglia Non l'ho niente fatto Ok Ok Andiamo avanti Così via Ma come Vabbè Ma non dovrebbe bloccarlo quando faccio quell'attacco Volevi Oh L'ho colpito lo stesso così A caso Va bene ragazzi Comunque Bene ragazzi Questa era la mod Allora spero che vi sia piaciuto anche il video Vi invito a spoliciare più non posso per questo episodio E se non siete iscritti al canale Iscrivetevi E attivate la campanella delle notifiche Per non perdere nessuno dei prossimi video Grazie ancora amici miei Noi ci risentiamo al mio prossimo episodio Ciao ciao E grazie